Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPL per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono 4 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e ralentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna verso Firenze. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno, per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Sempre in FIPL in rallentamenti in tratti saltuari per temporali tra Montelupo Fiorentino e Firenze in entrambe le direzioni. Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per quanto riguarda le autostrade in A11, un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e in Cisareggello in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!